Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino e da Luca Viscardi. Siamo qui per un rapido contest, ne abbiamo fatti diversi, abbiamo spedito i vari prodotti che di volta in volta sono stati vinti, siccome è un genere di video apprezzato, continuiamo con questo genere e nello specifico mettiamo in palio un'altra custodia dedicata ad iPhone 4 e 4S, in questo caso abbiamo la Dorset Approach di Cooler Master, Elegance Collection, dedicata ad iPhone 4 e 4S, per portarsela a casa, le abbiamo già recensite, spacchettate, fotografate, se non sapete di cosa stiamo parlando le trovate già tutte online e nello specifico per portarsela la casa è semplice, basta lasciare un commento qua sotto, quindi sotto al video lasciate un commento, iscrivetevi là sopra, c'è appunto un pulsantino tipo iscriviti, vi dovete iscrivere al canale e lasciare uno o più commenti, ovviamente di iscrizione ce n'è una sola, sui commenti vi lasciamo mano libera, potendo figli del buon senso come al solito i commenti, se riuscite per esempio anche a lasciare come commento una barzelletta, così quando ci arriva la notifica di YouTube ci si fa anche 4 grasse risate, solo non abbiamo tempo di star lì a controllare chi lascia il commento e quando, perché non abbiamo proprio tempo di fare questo check e quindi è per questo che vi lasciamo mano libera. Se è possibile appunto, come novità rispetto agli altri video di questo genere, se lasciate una barzelletta o qualcosa insomma di divertente viene fuori una cosa anche piacevole da parte nostra quando riceviamo poi le varie notifiche via email. Lasciate quindi un commento per partecipare, potete lasciare anche più commenti, chiaramente noi poi andremo ad analizzare in base al tempo di validità, quindi date un'occhiata al regolamento visto che c'è qualcuno che... Sotto al video dove si lasciano i commenti c'è anche un piccolo lichino tipo regolamento dettagliato. Lì trovate il regolamento con anche esattamente la scadenza, il data e ora della scadenza di questo contest. Sono quattro righe di regolamento, quindi insomma... Dateci un'occhiata perché è inutile che poi lasciate dei commenti giorni o settimane dopo che il contest è scaduto, quindi va solo che a riempire di commenti inutili poi la pagina. Quindi per voi stessi seguiteci per non perdervi il contest quando è attivo, lasciate un po' di commenti in modo da renderlo così anche simpatico per noi che li riceviamo ma anche per gli altri lettori e esitatori delle nostre pagine e direi a questo punto quindi che possiamo chiuscire, facciamo rivedere ancora il prodotto della Cooler Master, questa custodia per iPhone 4 e 4S. Vi si ringrazia dell'attenzione e vi si saluta così da realizzare anche un filmatino compatto. Ora quindi è tutto, grazie dell'attenzione, seguiteci su formobiles.info e relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare... La fa sempre più veloce tipo quelle dei farmaci pubblicitari. Ma no, è che normalmente c'è anche un certo contesto di serietà, in questo caso invece era proprio andato completamente fuori misura. E comunque seguiteci che... Sì, avete capito. Va benissimo. Intanto un saluto, buona serata e buon divertimento. A presto, ciao! Ciao, a presto. Ciao, a presto.